Per l'ufficializzazione della data del voto per le regionali si attende la decisione del Ministero degli Interni. Intanto è l'ora dei programmi. Ascoltiamo. La quete dopo la tempesta. Ora tutti sembrano essersi messi con l'animo in pace dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della modifica del quorum della legge elettorale che ha consentito questa mattina al Presidente dell'Aggiunta regionale Paolo Frattura di portarsi a Roma e con il Ministro degli Interni Marco Minniti poter procedere alla indicazione della data per lo svolgimento delle elezioni regionali. Quella più probabile sembra restare sempre quella del 22 di aprile anche se l'ufficializzazione verrà dopo la presa in carico nel sistema di informatizzazione del Viminale della legge regionale come modificata. Ora che finalmente potrà essere indicata la data delle elezioni e messe da parte le polemiche per lo slittamento della stessa rispetto all'ipotesi del 4 marzo l'auspicio è che si possa alla fine iniziare a pensare ai programmi, a mettere nero su bianco idee possibilmente in grado di far guardare al domani una regione che ha troppi problemi risolti. Le polemiche delle ultime settimane non hanno giovato a un dibattito che avrebbe dovuto conoscere altri toni e soprattutto far comprendere quali le rotte da seguire. Anche alla luce del bilancio di previsione appena approvato a fronte di 2 miliardi e 300 milioni di euro complessivi resta un disavanzo di 527 milioni di euro e con un altrettanto disavanzo sanitario che si è fermato a 42 milioni di euro solo in un anno. Cifre che appaiate a quelle a copertura dei mutui dovranno portare ad un'attenta riflessione per non farsi trovare ingabbiati appunto dai numeri.